Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema pasticcera alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, zucchero, farina, latte e uova. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e facciamo tritare ancora per un minuto a velocità 8. A velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, le uova e il latte. ed accennare il bimbi per 8 minuti a 90 gradi a velocità 4. La crema pasticcera alle nocciole è pronta, trasferiamola in un contenitore, mettiamo la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare. Crema pasticcera alle nocciole ideale per farcire torte crostate o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!